raga sono tutti dall'angolo oddio oddio uccidono 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 l'unico ha colpito per prima in tutti l'acqua il passaggio ma io dico grande però chi è ancora non uccido c'è mediani 8 luoghi devono andare in linguaggio anche tutti si sparano malissimi aia 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 ammazzo questo goblin fa molto ammazzo questo uomo mi ha sputtato provendo c'è un soldato a suon vu preso un soldato a suon via siiii sono proprio a me dovevi sparare quello la do pavia sei molto molto malissimo sì ma avevo venti che mi sparavano infatti ho visto 55 che si sparano vabbè colmine vai 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 per dietro oh che dico oh no 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 eh grazie ma se me lo dici magari ma non lo sapevo io sparò uno magicamente mi compare un altro normale che non hai seguito io non l'ho visto bro normale che uno era uno scout oh 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 basta non vinto micchia sono tutti qua adesso si è spostata la battaglia in città ma questo costo minchere fucile a pompa ma come fai no 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 c'è Figa do I cooperation infatti se ti racconta come uccisione, quello con le righe non muore mi spara tre volte lui che muore e c'è il rato più basso le righe no, quanto c'è la righe di qua? la righe... tu che cosa hai, l'automatico? io no, c'ho la... guarda che hai uno lì davanti si, l'ho visto lì no uno e due davanti c'è tutti nelle polline? si, guarda, occhio uno è entrato dentro il treno vabbè, devo giurare le polline, occhio no, però uno dietro fa ancora quello con le righe dov'è? diminizio, attrapa dentro, no? si, però quello là si, mi sto, mi sto eh, ma me lo puoi soccare, tu tu la pompa scamperato da nessuno non c'è come questa arma che ciò deve essere fuuuuc c***o spara dentro spara a casa no non c'è uno qua dentro c'è? no ma ci vuole morto facciamo il giro ma ci sono le colline di nuovo è benissimo forto le colline ci sono qua dietro cecchino 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 dai tre in rada c'è un medico il tre in rada c'è un medico il tre in rada c'è un medico c'è un cecchino dov'è c'è un cecchino dov'è c'è un trasporto dov'è sì ma che è questo dietro la che parte c'è un'altra parte ecco l'ora morto morto l'ha sportato il cecchino l'ho visto ah l'avevo ucciso il cecchino oddio oddio morto grande grandissimo è arrivato è arrivato è arrivato è arrivato ma che questo ancora con la farquare questo qua ho trovato che mi uccide questo beh l'amica non hai visto quello stavo mi vanno da un minuto c'è un minuto casa casa al tetto preso ancora non ti puli prima dentro lui casa qui casa qui eccolo preso non ti puli Sì, vabbè, vabbè. ancora questo da far qua roba questo qua con il shooter 17 3 un pato le quattro sono mie deva 10 qua abbiamo sono morto dai detrugne su raso come chiamate che hanno soccorriscimi non mi soccorrisci ma che dietro da dietro avevo due davanti uno c'è dentro la casa di prima che smirata ok un cecchino davanti a giampi giampi acqua l'ho spottato andiamo a prenderlo stanniamo lo stoppando io voglio tornare mi chiamiamo mi chiamiamo non ci daranno non ci daranno lì l'ho spottato dove sta andando a torino dietro dietro sui 3 di mezzo si no dietro di essere in mezzo dentro le case un po' di lì ma lo facciamo ce lo facciamo ma si è fatta abbiamo vinto bro di mezzo sono di mezzo sono non cedermi però non cedermi ma il profan medico si è fatta non cazzate non cazzate non c'è non cazzate non cazzate io l'ultimo mio l'ultimo tu eh? mio l'hai ucciso tu? si in general cosa fai tu? banana o cosa fai? noi facciamo ti vuole dare il supporto va bene non c'è